Siamo nella sede provvisoria del Comitato dei giochi del Mediterraneo 2026. Quest'oggi è l'insediamento ufficiale del nuovo direttore generale Carlo Molfetta. Lei si appresta a ricoprire questo ruolo così importante per questa manifestazione tanto attesa per tutta la città? Beh c'è ancora molto da scoprire, da capire e c'è tanto da lavorare soprattutto. Quindi adesso bisogna capire bene appunto tutta la situazione e dopodiché fare una progettazione quanto più specifica possibile e poi andare avanti con i lavori. Ieri c'è stato un incontro per definire il cronoprogramma. È stato definito? Sì, il cronoprogramma è stato definito, è stato preso atto da parte del Comitato del Masterplan e quindi lo inviamo al Governo oggi e aspettiamo i decreti perché si possa partire con i lavori. Fortunatamente ci sono tutti i comuni, i comuni del territorio della provincia di Brindisi, Lecce e Taranto che sono pronti con i progetti. Ecco, in tre mesi è stato fatto tutto e per quanto riguarda il Comune di Taranto ci sono altre progettazioni che saranno realizzate nei prossimi mesi. Pensiamo di poter iniziare con i lavori in primavera per poter arrivare puntuali a questa manifestazione così importante. I tempi per i decreti attuativi quali sono? I decreti attuativi li farà il Governo. Ripeto, con i comuni dobbiamo già a febbraio iniziare i bandi di gara per appaltare i lavori. Forte della sua esperienza in campo sportivo, lì è appunto un campione e anche un dirigente della federazione Tecobondo italiana. Questa manifestazione è molto importante, lo sport naturalmente ricopre un ruolo importante per tutto il territorio. È importante per Taranto, è importante per tutta la Puglia chiaramente. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare bene e di far uscire dei giochi che siano ricordati. Grazie a tutti.